Terra Amara, le trame della settimana dal 5 al 10 maggio. Una piccola anticipazione di quello che accadrà durante i prossimi episodi di Terra Amara, in onda su Canale 5, domenica 5 a venerdì 10 maggio e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity. Terra Amara anticipazioni. Il piano di Betel Hakan saluta Abdul Qadir, che è pronto a lasciare Kukurova per non interferire più nella vita privata di Hakan e Zuleyha. Ma, poco prima di partire, Abdul Qadir viene arrestato. Hakan va a trovare Abdul Qadir in carcere e lo mette al corrente del suo piano per farlo evadere. Durante il trasferimento di Abdul Qadir al carcere di El Azig, Vahap lo aiuta a fuggire e i due si nascondono tra le montagne di Kukurova in attesa di oltrepassare la frontiera. Nel frattempo, Betel assolda alcuni scagnozzi per rapire Kolak e attuare il piano organizzato da mesi per uccidere Zuleyha. Infine, Betel attira Zuleyha in una trappola e cerca di ucciderla con la pistola di Kolak.